I nostri bambini, li chiamiamo e sconuciranno in alcuni ruoli che hanno interpretato, gli giuccellini, Flori, la luna e il sole, Chiara, Agnese e Favorino, le clarisse, i frati, i pettegoli, San Francesco, la sorella morte e il lupo, il Papa, un ringraziamento doveroso va anche Anita, la tronatrice del musical, il coro e i musicisti, il coro e i musicisti. Sì, li voglio ringraziare io. Poi vado avanti, allora, per la recita, non so se devo dire i nomi, venite sul palco? Sì, sì. E vai fuori, 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 fuori. Per i balli e le coreografie dei balli, vediamo se arrivano. Poi dovrei ringraziare i genitori che hanno fatto queste bellissime scenografie, che adesso sono nascoste, però questo sotto e tutti gli alberi, i cellini, i fiori. Poi le salte, perché ci hanno fatto tutti i vestiti. E poi ci sono anche tre signori giù per il pubblico, l'Albina, la Gemara e la Dura. Allora, non sbagliate, uscire i giorni sono quelle due povere persone che stanno giù a vestire, spogliare i bambini, a tenere i bambini. Sì, perché loro hanno la parte più brutta, perché è una stazione giù a vestire. Poi dobbiamo ringraziare la Martina per i video e poi per le foto che ci farà dopo. Naturalmente le luci, audio e tutto, il filbetto che è qui nascosto, che prima cantava, ho visto. Ah sì, ho scoperto che cantava. E su, lassù, la Sara e il Giacomo. Il nostro reporter di stasera ha preso l'ultimo minuto, il Giorgio. L'ho dimenticato qualcuno? L'ho dimenticato qualcuno. E' vinto a fuori di stima. Sì. Allora, io spero di non aver dimenticato nessuno. Devo ringraziare principalmente, oltre ai bambini, i genitori che hanno portato i bambini, perché sono stati molto costanti. E' un po' cazzo da te. Allora, adesso sono molto informata sulle cose. Le foto? Yes. Yes, ok, grazie Martina. Adesso vorremmo vedere delle foto, dei figli che avete preso, per cui c'è l'istituto con la bella roba che c'è da lì fuori. E ricordo che il ricavato di questa sera e di le sere prossime andrà tutto a padre Sereno che è in Ecuador, che sta cercando di mettere un tetto sulla testa ai suoi ragazzi e anche alle famiglie che sono rimaste senza casa e senza adottazione. Quindi andranno in un posto sicuro perché noi siamo sicuri che arriveranno là di solito. Allora, grazie. Grazie.